Ciao a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e benvenuti in questo nuovo video che è un nuovo episodio della serie IKIT scelti da voi ok voi non siete funghi però scelti da voi personine normali che vivono in questo mondo e vabbè comunque allora scusatemi per l'assenza di video ho visto infatti che si sono disiscritti in tre persone vabbè ma li capisco perché purtroppo non ho potuto fare video in questi giorni perché ho anche una vita sociale e quindi questo significa scuola la scuola significa studio e lo studio vabbè basta non riesco a dire che cavolate no comunque veramente era per la scuola e vabbè ora cercherò dalla prossima settimana di mettere più video possibili perché cavolo non posso saltare giorni così non posso saltare giorni così e tu salti ma io non posso saltare qua ho saltato vabbè non posso saltare in teoria comunque visto che questa qui è la sesta puntata dei cosi dei KIT scelti da voi e anche se ragazzi non siete arrivati a 100 mi piace però ho visto tutta la buona volontà che ci avete messo nel commentare siamo arrivati quasi a 400 visualizzazioni e sono super contento tu perché vedi per terra? cosa c'è di bello per terra? perché lui ha un libro e io no? ehi ehi perché tu hai un libro e io no? piove hai fatto piovere con il tuo libro stupido va bene comunque il KIT che vince la sesta puntata del coso del KIT scelti da voi diccelo tu diccelo tu non è il cactus ma il cactus fa male ci sono anche cactus velenosi in quanto il KIT più scelto da voi ragazzi è il KIT VIBER cioè l'avvelenatore si ho detto bene l'avvelenatore bravo no 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 non puoi dire così l'avvelenatore si l'avvelenatore ma cosa scrive? ma cosa parla? che cosa? che? un personaggio vomitato era snap mi sa che è un mio scritto ciao perché ti hanno vomitato? tu da dove esci? un piccolo albero vivente vabbè il KIT VIBER ha vinto alla maggioranza con ben 18 commenti tra tutti quelli che ci sono stati secondo classificato è stato il KIT SPYDER che penso che chi lo ripropone sicuramente vincerà la seconda cioè la prossima puntata e quindi la settima puntata si farà con il KIT SPYDER persone che mi dicono il KIT EDEN ma il KIT EDEN io non userò mai vero felpato? vero felpato? ok quanto è felice guardatelo oltre a 40 secondi si inizia non sembrava tipo la voce di se voi vedete i Griffin no i Griffin American Dead no? quel ciccione lardoso dell'amico di del figlio di quello che insomma avete capito no? quello deficiente perché prende le pasticche vabbè basta ok sto impazzendo vedi lui si mimetizza vedete lui si mimetizza nella sua natura non sei una canna da bambù ma va bene scegliamo il KIT VIPER ok KIT VIPER scelto ho riscelto il KIT VIPER ora vedete l'immenso lag di Minecraft SPHX e vabbè aspettiamo l'immenso l'intenso lag di Minecraft SPHX ok fatto ciò visto che con il KIT VIPER ho solo due grillet pork cioè c'ho due c'ho due cosi c'ho due come si chiamano? due porki grigliati no? ah 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 quanto fa ridere i folks ok prendiamo le nostre non so se sentite l'audio mi sa di no si mi sa di no boh mi scuso se non sentite l'audio non ci posso fare niente l'audio non lo sentirete mai ok vedete un po' la mia felicità sta tornando i livelli di prima sono un po' triste in questi giorni perché per la scuola e tutto quello che c'è ma ecco ma porca miseria perché 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 oddio mio due due persone no ma un altro un altro ragazzi un altro perché tappo io non c'ho niente da guardate come si fa almeno cercamo di fare una spada no io ammazzo cerco da ammazzare questi qua non ammazzarli ma che cacchio vedi sono un tuo fan io voglio uccidere tutti ok culo rifugiamoci nella terra nascosta nessuno non mi vedrà mai che buccio di culo che buccio di culo abbiamo anche vinto un caschetto e una spada di pietra quindi la spada di pietra adesso non me la devo più fare perfetto ora vediamo un attimo di più vicino ehi aspettate ehi non riesco più a ok ci siamo capiti troppe persone eh si me ne da una 64 quando quello più vicino sta qui bussole buggate dai che è dai che è messa da colpire dai ma lo la che è un orsetto panda oh uno ammazzato ah ho venerato il mio avversario si il kit viper si fa sentire si giusto vieni qua no anche una spada e vabbè mi aveva rotto un po' di schiattoli visto che sto per morire io me ne vado ciao 39 cercheremo di ucciderlo con la spada in aspettate aspettate 31 32 ok non c'è niente aspettate è cala è cala è cala è cala è cala fermi fermi tutti fermi maxim smu maxim smu 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 aspettate ammazzamo e cala è cala è cala che iphone se gioca il gioco se gioca il gioco iphone amatore adesso per me maxim corri più che puoi perché se no qui son si puoi avviderò il mio avversario dov'è mi dovete dire dov'è che fai scappi cosa pensi che io non ho la forza e la la si l'abilità nel correre sono un piccolo paraplegico no posso anche io correre un po' di meno di te non capisco il perché ma corro anch'io si potresti confondermi per un uomo in sedia a rotelle ma no 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 corro anch'io beh ma perché corro così poco anch'io perché lui corre più di me ehi perché corre più di me aio che cacchio che mi ha colpito a tu pa 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 oh pa ma che caccio è ma che caccio è il lago allora ragazzi allora spieghiamo a tutti i founder che ai founder degli sphx all'host degli sphx che è americano non so quale che i server fanno schifo non potete dire che la mia connessione fa schifo perché ho internet che mi arriva anche a 15 mega di download e di upload un mega quindi non fa schifo i ping sono 27 quindi 27 è una buona cifra no? che cosa sta succedendo nei server sphx spiegatemelo voi in un commento insieme alla motivazione del lag di minecraft sphx più un kit che volete che scelgo nella settima puntata i mi piace per la prossima puntata devono essere almeno 50 un saluto a tutti da iphone amatore saluto tutti gli admin tutti i founder i found come si legge i found boh non lo so comunque chi ha creato gli sphx Ivan Pro o qualcun altro non vi ricordo come vi chiamate ma vi ringrazio e vi chiedo per favore cambiate questo cazzo di host ciao a tutti grazie a tutti